Dovrebbe essere il 2009 Dovrebbe essere il 2009 E quello che si dicono anche i discografici Il 2009 non è No, era il 2007 Ve lo dico con la massima sincerità Niente da fare Zio Gio È il 2009 È il primo, la prima data La prima Infatti mi sembrava anche a me ho letto il 2009 Però, guarda Che è scritto di questo Metti a fuoco Metti a fuoco Arisa Arisa 2007 Ti credo Aspetta che perde lo sole Sì Così è peggio Devo dare diretta per fortuna Amici di Facebook Grazie 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 a tutti